Bella vista. Bella anche la cornice. Una finestra è una finestra. Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili che danno più luce. Vedo. La maniglia centrale è davvero elegante. Sì, bella. Le bollette sono molto più leggere e puoi approfittare delle detrazioni fiscali. A tutta la burocrazia ci pensano i premium partner Ocnoplast. Un pezzo di design al pezzo di una finestra. Grazie.